Il gruppo De Michele presenta Test Weekend di San Valentino. Motoshop 2000 e CDM Motors ti offrono la possibilità di provare in pista la nuova gamma Aprilia. Moto Guzzi e Derby. Non mancare al grande party di sabato 13 febbraio presso il nostro store di Capua, dove potrai ritirare il coupon per provare domenica 14 febbraio la moto dei tuoi sogni. Test Weekend di San Valentino, un grande regalo del gruppo De Michele. Test Weekend di San Valentino